buongiorno buongiorno mini live dedicato a voi perché perché io sono in pomeriggio sarò in televisione per questo già portata a casa il nostro combat super jump hit che vedrete stasera le 18 e 30 ma come ben sapete le mini live mi piace per tutti quelle che sono abbonati base abbonate gold e oggi andiamo da cominciamo subito siccome a me piace tantissimo milano tutte le mattina detto perché non posso invitare le mie amiche allenarsi con me ed in più abbiamo la possibilità come si chiama di vedere che sono tornato su roma e siamo pronti ok adesso semplicemente è un piccolo movimento con le gambe proviamo di riscaldarci al bene scusatemi mi fai mi centro al meglio nel mio tappeto no cambio il mio tappeto scusate l'avevo messo a rovescio ok ci siamo ok 8 7 6 5 4 3 2 e divarica le gambe incrocio le mani dietro di me scendo giù piegando le gambe portando il busto avanti i gomiti sono piegati guardate i gomiti sono piegati e tiro fuori sulle mani proprio per riscaldare le spalle respiro non c'è che la forza di gravità fa sul lavoro respiro e torno su braccio su guarda su e torno in centro inspiro su espiro giù adesso incrocio l'altro mignolo sopra che incrocio diciamo l'altro mano sopra l'altro piego le gambe spalle vengono avanti respira allarga i gomiti trova la tua forza e inspiro su di nuovo braccio su tiro indietro torno centrale io mi giro verso di voi mano destra che prendo il braccio sinistro e mi piego mi piego sentendo tutto il lato sinistra del corpo che si allunga guarda sotto l'ascella inspiro torno su perché non dobbiamo mai essere aggressivi specialmente quando andiamo a fare fluid dobbiamo riscaldare il corpo dolcemente torno su andiamo a fare un po di salute al sole scendo giù mani giù piedi indietro e di nuovo pedal con le gambe portando il ginocchio sfiorare la terra otto sette domina le tesi sei cinque quattro e tre due e uno torno indietro respiro con inspiro e respiro con solo il naso e poi piego le gambe piccolo cammino fino ad arrivare in avanti stendo le gambe stendo la schiena espiro scendo inspiro sollevo espiro mani a centro inspiro su e spiro giù piano piano mani indietro adesso scendiamo fino a terra in cinque tempi gomiti stretti se necessario appoggiati le ginocchia e in cinque e in quattro e in tre e in due e stop cobra piccolo cobra non grande come piccolo cobra gomiti stretti chiusi ok scendo giù ritorni torno in planche ginocchia sono convolte se necessario downward looking dog piego le gambe e posso o fare un balzo solo in avanti o portare una gamba alla volta in avanti inspiro frontale allungando la schiena espiro sollevo espiro centrale stiamo solo riscaldando spiro spiro senti come la schiena diventa sempre più sciolto più pronto andiamo questa volta giù in 3 2 1 fermi qua spingo contro il pavimento primo upward looking dog qua espiro torno down e facciamo l'ultimo l'ultimo saluto al sole piego le ginocchia avanzo stendo inspiro espiro inspiro in su espiro in centro inspiro su espiro questa volta posso portare le gambe indietro una alla volta posso piegare le gambe e se vado in balzo la cosa importante è che i gomiti rimangono piegate quando scendo per proteggere le spalle e i gomiti è fondamentale inspiro su espiro indietro e adesso possiamo cominciare siamo pronti siamo caldi gambe destra sale e andiamo in pulsazione 8 7 6 5 4 3 2 apra la gamba apri il ginocchio va su e facciamo un cerchio piccolo circolo con il ginocchio in su in su ed in su e apri guardi sopra la spalla sinistra fino a vedere il piede come se fosse la coda di un scorpione allontani il pavimento da te con le mani e fare il giro completo giro completo da qui andiamo a sollevarci e guardare dietro le nostre spalle 8 7 6 5 4 3 2 2 tu tenendo la gamba destra sollevato correggo stendo questa volta la ginocchio viene centrale e la trattengo 4 3 2 piego le braccia 4 3 2 stendo le braccia 4 3 2 appoggio il piede questo punto andiamo in high lunge ok prima con la gamba un po' piegata stendi la gamba e torna indietro stendi la gamba indietro fai una sorta di piccola pressione sia in avanti che indietro stendi questa pieghi questa torni indietro ok vedi piegato stendi 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 e torno indietro ultimo stendo rimango rimango e le mani scendono a terra ritorno in plancia scendo in 3 in 2 1 trattieni l'abdome spalle rilassate collo lungo up dog down dog affondo i taloni reset rilassa la spalla allunga il collo solevo la sinistra su solevo la sinistra su e vado 8 7 6 5 scaccio il gluteo 4 3 facciamolo anche diventare tonificante tanto che ci siamo 4 3 2 piego la gamba apro il ginocchio e comincio a fare un cerchio circolo con quella gamba e 2 e 3 ultima 4 vado su 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 poi porto la gamba dietro di me vado in estensione la tengo guardando dietro di me 8 7 6 5 4 4 3 2 riguardo giù sollevo la sinistra corrego la destra stendo su porto il ginocchio in centro 4 4 4 3 2 piego le braccia 4 abdominali tesi qua tiro dentro quel ginocchio core braccia su 4 3 2 appoggio il piede e vengo su prima la gamba è piegata alla destra stendo la destra e senti come è convolto dalla luce al flessore la gamba poi stendo scendo in avanti torno indietro e scendo stendo in avanti e torno indietro vai queste vanno avanti queste vanno indietro torno indietro ancora stendo 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 torno indietro stendo 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 braccia su trattiene la massima pressione sia sulla destra che sulla sinistra rilascia le spalle rilascia lo sguardo rilascia il respiro scendiamo giù mani giù e andiamo giù in 3 3 2 1 and up dog eccellente torniamo indietro guardo in avanti piego le gambe un balzo in avanti stendo su espiro allungo inspiro su espiro in centro inspiro su espiro giù centro giù 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 stendo in plancia stendo in plancia ancora 2 2 su giù up dog qui and su torno indietro ritorniamo su la gamba destra che sale andiamo 8 7 6 5 4 3 2 piego la gamba rimani qua stendi guardi sopra la spalla giri questa volta andiamo 8 spingi su questa gamba 7 6 stendi stendi 5 4 3 2 occhio qui vai inside plank trattieni 8 7 6 5 4 3 2 sollevi la destra giri la porta la su torno in centro 4 3 2 braccia si piegano 4 3 2 braccia si stendono 4 3 2 appoggio le gambe in avanti stendo prima piegata ok braccia questa volta la portiamo su così stendo 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 avanti sollevo il tallone destro questa volta torno torno indietro ma sono sempre basso non stendo le gambe sono sempre basso gambe piegate gambe poi in fondo in fondo vado 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 stendo 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 la sinistra sollevo il tallone destro e torno indietro spalle rilassate vado 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 trattengo 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 stendo anche la sinistra senti come si sta allungando torno indietro questo sarà l'ultimo stendo 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 questa volta vengo in avanti sulla destra sollevo la sinistra mani indietro trattengo piego la destra dolcemente 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 provando di tornare indietro scendo con le braccia torno indietro tre flessioni e poi un up dog così e uno torno su ginocchio giù se necessario due e in su tre e in su quattro up dog torniamo indietro down dog fluid e allenante e calistenico e tanta roba su con la sinistra otto sette sei cinque quattro tre due piega la gamba guarda il piede sopra la spalla destra poi lo flippi lo giri ok andiamo per otto qua spingo otto scendo sette e scendo arco fai proprio un arco sei scendo cinque se vorresti quasi quasi potresti andare in full wheel ancora tre ancora due mi sa che ho saltato uno facciamo ancora due occhio uno questa volta ti vieni in avanti side plank trattieni otto sette sei cinque quattro tre due mano giù piede sinistro rimane sollevato stendo in su lo porto in avanti per quattro piego le braccia quattro tre due super quattro tre due appoggi il piede salgo le gambe indietro piegate braccia su stendo le gambe vengono avanti vengono avanti piega indietro stendo in avanti stendo in avanti sollevo anche talone sinistro grande stabilità concentrati su un punto di fronte a te stendo in avanti stendo in avanti stendo torno indietro torno indietro torno indietro questo è l'ultimo stendo in avanti stendo in avanti stendo abbasso quel talone ci veniamo in avanti spingendo su la gamba sinistra braccia indietro fissi un punto solo stendo in avanti la gamba sinistra fletti a martello la gamba piedi destro puoi cominciare a rilassare le spalle piegare la sinistra e cercare di tornare in affondo al rallento braccia giù a terra tre flessioni ci siamo tre e in su due e in su questi sono fortissimi tre e in su perché si faranno diventare fortissimi quattro up dog torno indietro down dog e reset respira e reset portiamo adesso in avanti piegare le gambe gambe torno in avanti oh un passo alla volta inspiro frontale espiro scendo inspiro su espiro mani a centro del cuore inspiro su espiro scendo completamente guardo in avanti piegare le gambe torno in chatteranga con le braccia piegate ognuno giù rimani qua quattro tre due up dog eccellente brava ragazzi torniamo indietro e reset la gamba destra sale viene la gamba destra al gomito o sopra il tricipio destro stacco la mano sinistra se è possibile da terra per quattro per tre per due scendo giù il ginocchio destro viene al petto stende sotto il lato sinistro e mi apro qua adesso scendo e salgo e scendo e salgo e scendo ancora uno sono quattro scendo salgo rimango abdominali obliquo in particolar modo stacco la gamba sotto trattengo per quattro per tre per due torni centrale vai in downward looking dog inspiro e spiro e spiro inspiro e spiro ancora uno inspiro e spiro la sinistra sale il ginocchio viene al tricipi del sinistro mi porto sulla mano sinistra stacco la destra per quattro per tre per due mano giù il ginocchio passa sotto proprio il lato destro del corpo stendo e qui scendiamo quattro e su e tre e su e due e su uno rimango stacco la gamba trattengo otto sette sei cinque quattro tre due down dog aspiro guardo di fronte a voi piccolo balzo in avanti da qui power squat rimango in power squat trattengo le gambe ginocchi che stanno proprio andando in stessa direzione del dito medio dei piedi sollevo i taloni e scendo trattengo questa posizione per otto per sette per sei abdominale tesi per cinque quattro tre due scendo giù a terra ok seduta o mi aiuto con le mani se necessario per proteggere il cocci scendiamo giù in low boat quattro tre due sollevo e in quattro tre due sollevo ancora per sette quattro tre due sollevo ancora sei sollevo ancora cinque quattro tre due ancora quattro quattro tre due sollevo sollevo quattro tre due sollevo quattro tre laterale fianco destro braccio sinistro sopra la testa e lo teniamo otto sette sei cinque quattro tre due cambio otto sette sei cinque quattro tre due e torno le gambe ok adesso faccio piccoli cioè posso fare due o tre diciamo lanci che mi permettono di tornare in squat aiutati con le mani se necessario sto in squat per quattro e tre e due su chiudo di fronte respiro recupera e rifacciamo questo inspiro su scendo giù guardo in avanti poi fare il balzo potete tornare indietro delicatamente facciamo tre flessioni se non ce la fai fallo così tre e due e uno scendi up dog down dog la destra sale vengo a tricipite destra mi sposto otto sette sei cinque quattro tre due ognuno avrà il suo ginocchio qua stendo sotto solevo e quattro e su e tre e su e due e su ed uno rimango stacco quella gamba e la tengo per otto sette sei cinque quattro tre vai in down dog ragazzi come mi sta andando state andando bene vi state allenando alle grandi ok rimanete in down dog respira inspiro espiro affondando quei taloni ok proprio per fare il massimo del vostro lavoro ok e la facciamo la sinistra sinistra su tricipite rimango mi sposto stacco per otto sette flerta con l'instabilità fa parte del gioco quattro tre due la mano scende ginocchio ginocchio passo centro stende sotto dobbiamo fare quattro scendo quattro e salgo su scendo tre e salgo su scendo due e salgo su scendo uno rimango su stacco la gamba di sotto la trattengo con l'abdome contratto ginocchio verso centro per sei cinque quattro tre due down dog eccellente ragazzi inspiro piego le gambe espiro vengono avanti power squat per quattro e in tre due sollevo i taloni scendi piano 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 verso i fianchi piano 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 verso i fianchi ok qui ritorniamo su trattieni trattieni oggi stiamo facendo un lavoro molto total body coinvolgendo spalle abdome gambe anche un po' di glutei ok scendi giù appoggiti indietro dolcemente se vuoi le mani vengono indietro per aiutarvi andiamo in low bot quattro tre due solleva per otto quattro tre due per sette quattro tre due per sei quattro tre due per cinque quattro tre due per quattro quattro tre due per tre quattro tre due per due quattro tre due per uno rimaniamo giù andiamo alla destra otto sette sei cinque quattro tre due sinistra otto sette sei cinque quattro tre due centro chiudi le gambe respira abbiamo fatto tanto abbiamo faticato tanto ok qui proviamo di venire su due sulla terza lanciti e provi di salire su se non ci riuscite aiutatevi con le mani ritorniamo in squat abbiamo pochi minuti ancora per la nostra mini live spero che vi è piaciuto questo allenamento che è bello 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 intenso centrale per favore ok da centrale portiamo peso sulle gambe sinistra siamo in fluid io chiamo la gamba che uso e incrocio la destra sopra fissa un punto di fronte a te abbassando questo ginocchio per sentire l'anca che si apre quattro voilà tre quando perdi l'equilibrio provi a calmarti la mente stendi su stendo la gamba di fronte a me o utilizzando le mani o soltanto con la gamba stesa e appoggia perché quando cominciamo a perdere l'equilibrio proviamo a dire ah invece dovresti fare calma calma fissa un punto ok non pensare all'altro ok scendo giù mi fissa un punto a terra quando fissa un punto ci aiuta a avere maggior equilibrio abbassando il ginocchio sinistro deve sentire come si apre l'anca mi lasciate le spalle lungo il collo sollevo con il ginocchio posso provare con la mano a portarla in avanti o staccare le braccia e la tengo e la appoggio divarichiamoci andiamo a fare un triangle ok non troppo larga con le gambe divarica poco a poco la sinistra le anche vanno indietro verso la destra e scendo giù può essere sullo stinco non sul ginocchio o sopra il ginocchio o sotto il ginocchio non sul ginocchio o a terra guardo su guardo su mi lasso le spalle vengo su cambio lato cambio il piede la destra va fuori la sinistra si chiude vengono avanti i fianchi vanno indietro e comincio a sentirmi proprio il busto parallele con la terra mano che può scendere ovunque che voglio sulla gamba apri il braccio e se me la sento posso girare il mio sguardo verso il soffitto torno su pieghe le gambe centrale 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 e facciamo semplicemente uno stretch per le gambe centrali aprendo ma con le mani molto molto ben appoggiate a terra per proteggerti l'interna coscia ok così io ho pressione sulla mani sente la vostra stretch centrale provando di trovare un punto di accordo senza esagerare scendo giù inspiro porto i fianchi in avanti relax qui relax trovando sempre più spazio tornate su scendi sulla schiena ragazzi e lasciatevi completamente abbandonare al rilassamento adesso proprio occhi chiusi pochissimi secondi poi vi lascio scappare però non lasciare questa parte dove respiri e basta spalle rilassate fianchi rilassati tutti i grandi progetti cominciano con un pensiero il primo pensiero deve essere che tutto è possibile fattibile fattibile risolvibile e quando cominci a pensare che tutto è possibile e cominci a cercare le soluzioni dove c'è un blocco tu vai avanti e cerca una porta se non c'è una porta cerchi un vicolo se non c'è una vicolo cerchi una scala c'è sempre un modo è importante di crederci cominciate a muovere i piedi e le mani portate le ginocchia a centro e giratevi sul fianco destro e tornate in su venite in centro portate le mani al petto con pensieri e sentimenti positivissimi sulla fronte pensieri che tutto è possibile apri 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 la sua scatola di prosperità e poi sulla bocca parole positive per me e per le persone intorno a me per essere oggi una persona migliore vi ringrazio tantissimo per allenarvi con me buon mini live stasera alle 18.30 troverete super jump combat heat che ho registrato ieri sera perché devo essere in televisione e vi auguro a tutti quanti una giornata splendida baci dalla G grazie a tutti grazie a tutti